Maria Dolorata di Criscio, maritata moffa, all'onore e l'orgoglio di annunciare che giovedì 16 di questo mese di aprile 2020 ricorre il suo centesimo compleanno, che per i ben noti motivi è stata costretta a rinviare i già programmati festeggiamenti. Comunque, in segna di buon auspicio e per sdrammatizzare questo turbolento periodo che sta mettendo a dura prova all'umanità intera, reciterà una poesia di primavera intitolata Rondine, imperata a scuola nel 1933. Vai Maria Dolorata di Criscio, maritata moffa. Rondine di ritorno, son qui sulla gronda che canti gioconte, gli ocasi mattina di porporo d'oro, che testa i vicini, la casa superba, con musche e con larve e con larve di fio, su prore d'antenne, posante le penne, tra il mar e il maggio mi rego dal mare, e scordi il viaggio pensando al mio nite, un portico fide e un embri giappà. Grandia se ti piacca, regarmi sull'acqua, se riesca, se crede, trovarmi fai tu. Era figo al pino, davanti ad aprile, ci guardo la santa che in te ne ti portò. Quando lei canta la turba devota, anch'io la mia nota salirti farò.